Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton! Lo strano caso del ladro di cioccolato! Stra-organizzato e stra-pronto a stra-tutto! Quella mattina ero sul tetto dell'eco del roditore. Era il mio turno di prendermi cura del nostro nuovo orto aziendale. Che giornata stratopica! Gli uccellini cinguettavano sui rami fioriti. Il vento soffiava leggero, leggero. Il sole splendeva tiepido nel cielo. Mentre innaffiavo le piantine, esclamai felice. Ah, com'è bella la primavera! Che tranquillità! Che pace! Che... Ma non riuscì a finire la frase. Perché Topella, la mia assistente, mi strillò in un orecchio. Dottor Stilton, che cosa fanno ancora qui? È tardi! Io avevo la testa fra le nuvole e sobalzai. Eh? Cosa? Squid! Poi misi la zampa su un rastrello abbandonato a terra che si sollevò all'improvviso e... Mi centrò in pieno il muso. Che male! Stordito dalla botta, barcollai di qua e di là. Topella strillò. Dottor Stilton, attento al concime! Ma era troppo tardi. Ci finì dentro con tutta la zampa e piombai a terra battendo il sottocoda. Che dolore! Che figuraccia! Perché, perché, perché capitano tutte a me? Ma, scusate, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo l'Eco del Roditore, il giornale più famoso di tutta l'isola dei topi. E, come dicevo, quella mattina era il mio turno di curare il nostro nuovo orto aziendale, in cima al tetto dell'Eco del Roditore. Mi andiamo molto fieri. Coltiviamo tanti fiori e ortaggi, qualche piccolo albero di agrumi e abbiamo persino alcune arnie di api per produrre una piccola quantità di miele delizioso. È stata un'idea stratopica. Abbiamo recuperato uno spazio che era rimasto abbandonato e, allo stesso tempo, lavoriamo insieme all'aria aperta. Ehm, dottore Stilton, spero che abbia un cambio di vestiti in ufficio. Sospirò Topella. Quel concime puzza! Paonazzo per l'imbarazzo esclamai. Ma certo! Oggi sono stra-organizzato e stra-pronto a stra-tutto! La mia assistente mi guardò dubbiosa. Ne è sicuro? Sicuro, sicuro, sicuro? Sicurissimo? Ma certo, Topella! Oggi è la festa di primavera! Uscirà un'edizione dell'Eco del Roditore così speciale che farà frullare i baffi dall'emozione a tutti i nostri lettori! Topella sorrise. Se lo dice lei, dottore Stilton. Comunque sono salita per avvertirla che è in ritardo per la riunione con i collaboratori. Non ha sentito che l'ho chiamata un po' di volte? Forse aveva il cellulare spento? Io affannato controllai. Per mille mozzarella! Infatti, il mio cellulare era spento! Strillai. Ma che ore sono? Sono in ritardo! E pensare che quella mattina mi ero svegliato prima per riuscire a fare tutto con calma! Invece la giornata era appena iniziata e io ero già in ritardo! Squid! Che disastro! Una giornata lunga! Lunghissima! Lunghissimissima! Appena scesi in redazione e circondato da una nuvola di moschini, tutti iniziarono a lamentarsi per la puzza. Squid! Che tanfo! Presto aprite le finestre! Qui non si respira! Io cercai di filarmela senza farmi notare. Quando sbucco fuori, mio cugino trappola. Gironi Muzzo, sei tu che fai tutto questo puzzo? Gironi Maccio, che pasticciaccio! Gironi Mame, sei caduto nell'etame? Io lo supplicai di tacere. Shhh! Ma Topella ripetè a voce alta. Il dottor Stilton è finito nel concime. Tutti si voltarono subito verso di me. Ma com'è fatto a finire nel concime? Boh, a volte il dottor Stilton è strano. Io ero sì! Squid! Che figuraccia! Trappola allora cominciò a sparare a raffica barzellette sulle puzze, facendo ridere tutti, tranne me. Sai qual è la pianta che puzza di più? Ovvio! La pianta dei piedi! Ho scoperto perché il mille piedi puzza, se già due piedi puzzano. Figuriamoci mille! Sai qual è il colmo per una puzzola? Aprire una profumeria! Poi mi trascinò nell'ufficio, chiudendo la porta dietro di sé. Io cominciai a cambiarmi e intanto ripetevo tra me e me tutte le cose che dovevo fare. Allora, per prima cosa adesso ho la riunione di redazione. Poi devo chiamare il sindaco per l'intervista. Poi devo andare in piazza per la caccia alle uova. Poi devo scrivere un articolo sulla mostra delle uova e sull'uovo di Topperger. Ma Trappola si mise le zampe sui fianchi e sbuffò. Eh no, Gironimino, niente scuse! Tu adesso devi aiutarmi nella gara di pasticceria! Io risposi sorpreso. Nella gara di pasticceria? Io? Ma perché? Lui strillò. Perché non posso fare tutto da solo, uffa! Mi serve un assaggiatore! E io che cosa c'entro? Ovvio! Il mio assaggiatore sarai tu! Io sospirai. Mi spiace, non posso! Ho troppe cose da fare oggi! Proprio in quel momento il mio computer cominciò a strillare. Gironimino! Per lo spavento inciampai, scivolando a terra e gridando. Squi! Chi ha parlato? Trappola sghignazzò. Gironimone, sei proprio un fifone! È Ficcanaso! In videoconferenza sul tuo computer! Controllai il computer e vedi il muso di Ficcanaso Squid, il mio amico investigatore, che occupava tutto lo schermo. Io chiesi, Ficcanaso, che cosa ci fai nello schermo del mio computer? Semplice, Gironimino! Ho appena installato un programmino furbino per stare sempre in contatto con te, che sei il mio migliore amichino! Così posso chiamarti in un attimino tutte le volte che voglio e chiederti un aiutino per risolvere qualche misterino. Trappola ne approfittò per tornare alla carica. A proposito di aiutino, Ficcanaso, faglielo capire anche tu che deve aiutarmi! Io tentai di spiegare ancora che quel giorno proprio non potevo e speravo che Ficcanaso mi desse ragione. Invece lui, che è un vero amico, disse... Gironimino, fai uno sforzettino! Trappola è noiosino, ma è pur sempre tuo cugino! Dagli un aiutino! A quel punto sospirai. E va bene, Trappola. Ficcanaso ha ragione, ti aiuterò. Vai avanti, io ti raggiungo alla gara di pasticceria appena finita la riunione di redazione. Mio cugino cominciò a ballare la samba per la felicità, canticchiando. Bravo, 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 cuginaccio! Meriti un mega abbraccio! Cuginotto Olè! Sapevo di poter contare su di te! Mentre usciva, io mi sentì proprio bene. Era bello fare felice qualcuno. Ma poi Ficcanaso tossicchio. Ehi, Gironimino! E già che dai un aiutino a lui, potresti dare un aiutino anche a me? E un aiutino per uno non fa male a nessuno. Ficcanaso insistette, fissandomi dallo schermo del computer. Dai, Gironimino! Ha bisogno di te per risolvere un misterino! Per mille mozzarella! Non potevo dire di no a un amico in difficoltà! Esclamai. Squid! Aspettami! Arrivo subito! Poi sospirai. Avevo promesso aiuto sia a trappola, sia a ficcanaso, nello stesso momento. Ahimè! Qualcosa mi diceva che quella sarebbe stata una giornata lunga. Lunghissima! Anzi, lunghissimissima! Ho tutto sotto controllo, io! Feci un bel respiro. Controllai che i miei vestiti fossero in ordine e mi incamminai verso la sala riunioni. Davanti alla porta c'era Topella. Dottor Stilleton, siamo in ritardo sulla tabella di marcia? Ce la fa? Ha l'aria stanchina e sono solo le nove del mattino. Avrebbe proprio bisogno di una vacanza. Sto benissimo! Esclamai. Poi sospirai. Ho tutto sotto controllo, io! Devo solo sbrigarmi perché ho promesso a ficcanaso di aiutarlo in una faccenda segretissima. Devo assaggiare il cioccolato di trappola. E poi devo affidare gli articoli ai collaboratori. La mia assistente mi bloccò con un gesto della zampa. Ho capito. Niente paura. Qui penso a tutto io. Poi spalancò la porta. Ed entrammo in sala riunioni. Topella mi strizzò l'occhio. Digitò qualcosa sul tablet. E sullo schermo apparvero tutti gli eventi della festa di primavera collegati ai nomi dei collaboratori. Io la guardai con gratitudine. Ah, Topella! Non so proprio come farei senza di lei. A proposito, non è che può chiamarmi un taxi, per favore? Devo andare all'ufficio di Ficanaso e prima arrivo, prima sarò libero. La mia assistente scosse la testa desolata. Ma oggi è la festa di primavera. Ehm, sì, certo. Lo so bene. Dottor Stillaton, è la festa di primavera e c'è il blocco delle auto. Davvero non lo sa? Tutta la città per oggi è zona pedonale. Squid! Me l'ero proprio dimenticato. Al solo pensiero di dover correre da una parte all'altra della città, divenne più bianco di una mozzarella. Non ce l'avrei mai fatta a fare tutto. Perché? Perché? Perché capitano tutti a me? Topella alzò le spalle con non curanza ed esclamò. Dottor Stillaton, perché non usa il bike sharing? Così dicendo, tiro fuori il caschetto giallo formaggio che uso per andare in bicicletta e me lo depositò tra le zampe. E buona pedalata, dottor Stillaton. Giusto! Il bike sharing! Era un'ottima idea! Perché non ci avevo pensato? Pigrissimo! Senza speranza! Proprio a due passi dall'eco del roditore, c'era una stazione con qualche bici a disposizione. Mi avvicinai e mi chiesi. E adesso come faccio a sganciarne una? Una vocetta alle mie spalle rispose. Inserire la carta di credito nell'apposita fessura, prego. Io mi voltai. Oh, grazie, molto gentile. Non finì la frase perché alle mie spalle non c'era proprio nessuno. Mi guardai intorno perplesso. Ma, ma, chi ha parlato? La vocetta ripetè. Inserire la carta di credito. Squeep! Sentivo la voce, ma non vedevo nessuno. Com'era possibile? Eh, eh, ma, ma chi parla? La vocetta alzò il tono. Stazione di bike sharing di Topazia numero 3737. Inserire... Mi battai la zampa sulla fronte. Che babbeo! Ormai era tutto automatizzato. A parlare, era stata la colonnina della stazione. Rassicurato, mi avvicinai e infilai la carta di credito nella fessura illuminata. La vocetta riprese. Geronimo Stilton, primo utilizzo del servizio, utilizzatore di livello pigrissimo. Io balbettai. Eh, chi? Io? Beh, insomma, finora non ne ho mai avuto bisogno, ma vado spesso in bicicletta. Io... Poi sorrisi tra me e me. Stavo parlando a un computer. Che babbeo! Ma poi il computer continuò. Mi correggo, utilizzatore di livello pigrissimo senza speranza. Io risposi. Ehi, ma... ma perché? Sullo schermo apparve una lista e la vocetta metallica continuò. Utilizzare il bike sharing è segno di civiltà e rispetto per la natura. Aiuta a diminuire il traffico e lo smog cittadini. E inoltre è un ottimo esercizio per mantenersi in forma e... Punto sul vivo chiesi. Lo so, certo che lo so. Come faccio a salire di livello? Il computer snocciolò le istruzioni. Attivare immediatamente abbonamento della durata di minimo anni due, ma meglio anni cinque. Con triplo utilizzo giornaliero per un totale di minimo sessanta ore di pedalata settimanali. Squid! Non si fermava più. Io ero in ritardo. Così dissi frettolosamente. Sì, sì, va bene. Basta che mi sgancio una bici. La vocetta allora sentenziò. Abbonamento attivato. Importo scalato. Complimenti, Geronimo Stilton. Finora nessuno aveva ancora comprato l'abbonamento Super Mega Maxi Deluxe. Poi la colonnina buttò fuori la mia carta di credito e uno scontrino lunghissimo. Squid! Ma quanto mi era costato l'abbonamento Super Mega Maxi Deluxe? Ma non avevo tempo per disperarmi. Così mi infilai il caschetto, inforcai la bici e cominciai a pedalare a più non posso. E' sparito l'uovo di Toppergee. Pedalai, pedalai, pedalai. E dopo poco avevo la lingua fuori. Squid! Non mi ero reso conto di quanto fossi fuori allenamento. Ero stanco, sfinito, spolpettizzato. Per mille mozzarelle. E la giornata era appena iniziata. Ma dopo migliaia di pedalate a tutta velocità, vedi davanti a me il porto di Topazia. Finalmente ero arrivato. Svoltai a sinistra, presi un bel respiro per affrontare una piccola salita, e improvvisamente senti un dolce profumo di scamorza vanigliata. Per mille mozzarelle. Chissà da dove proveniva. Ma proprio in quel momento, il mio cellulare squillò e mi distrasse. Mi fermai poco più avanti e risposi. Allora, Geronimino, non sarai gringhicchiando? Oziando? Io sono qui che ti aspetto! Io sospirai. Arrivo! Per fortuna trovai subito una stazione dove lascerà la bici e mi presentai davanti alla porta dell'ufficio del mio amico. bussai e una voce esclamò. Parola d'ordine! Io dichiarai. Dai, ficcanasa, sono io! La voce chiese. Io chi? Io, Geronimo! Geronimo chi? Geronimo Stilton! Ma insomma, chi vuoi che sia? Mi hai chiesto tu di venire! La porta si spalancò e, ficcanaso, mi rimproverò. Potevi dirlo subito che eri tu, Geronimino? Lo sai che mi stai facendo perdere un sacco di tempo? Io sospirai rassegnato ed entrai. L'ufficio del mio amico investigatore era, come sempre, il regno della confusione. Chissà da quanto tempo non faceva la polvere. Cominciai a grattarmi dappertutto. Forse l'ufficio era impestato dalle pulci? Voleva accomodarmi sulla poltrona, ma era completamente avvolta da moschini. Forse non veniva rinfrescata da un sacco di tempo? Feci per raggiungere la scrivania dove si era accomodato ficcanaso, ma mesi la zampa su qualcosa di scivoloso. Forse era una buccia di banana abbandonata a terra? Volai a zampi all'aria lungo tutto il pavimento. Che volo! Che botta! Che dolore! Esclamai. Ma insomma, ficcanaso! Non puoi essere più ordinato! Il mio amico scosse la testa e dichiarò. Sei il solito precisino, Geronimino! Ho avuto da fare, che cosa credi? Io mi rialzai. Sì, infatti. Vuoi dirmi perché mi hai fatto venire qui? Ficanaso esclamò. Finalmente me l'hai chiesto! Hai visto tua sorella Thea ieri? Le ho mandato un cesto pieno di banane dolcissime. Ti ha detto qualcosa? Ti ha parlato di me? L'ha colpita al cuore? Allora, Geronimino, rispondi. Ah, com'è bella Thea! Io sbiancai. Cosa, cosa, cosa? Mi hai fatto venire qui solo per chiedermi di mia sorella Thea? Ficanaso si offese. Sei proprio un amico cattivino, Geronimino! Non capisco perché non vuoi mettere una buona parola per me con tua sorella! Io strillai. Basta! Me ne vado! Con tutte le cose che ho da fare! Ma ficcanaso protestò. Ah ah! Quindi non mi vuoi aiutare a ritrovare l'uovo di Topperger! Io mi bloccai perplesso. L'uovo di Topperger è il pezzo forte della mostra delle uova che si inaugura stasera. L'evento più importante della festa di primavera. Si trova al museo. Anch'io non vedo l'ora di poterlo ammirare. Ficanaso strello. Ma se ti ho appena detto che l'uovo di Topperger è stato zanzato, rubato, surricchiti le casse acustiche. Ascolta bene. Dobbiamo correre al museo per iniziare l'indagine. Io sbiancai. Per mille mozzarella. Rubato? Che disastro! Ma non potevi dirlo subito? Poi ci pensai un attimo e gli dissi. Ma potevamo vederci direttamente al museo. Perché mi hai fatto venire fin qui? Il mio amico fece spallucce e rispose. Sei stato tu a dire che mi avresti raggiunto qui? Hai sempre così tanta fretta che non ti si riesce mai a spiegare tutto per benino. E poi c'è il blocco delle automobili. Non lo sai? Ho bisogno di un passaggio io. Squid! Perché? Perché? Perché capitano tutte a me? Per il tandem, pagare il supplemento, prego. Alla stazione delle bici, tentai di prendere uno dei tandem a disposizione, quando la voccetta metallica mi bloccò. Per l'utilizzo del tandem, è necessario pagare il supplemento, prego. Io protestai. Ma come? Ho fatto l'abbonamento super mega maxi deluxe. Non è tutto compreso? La voccetta metallica sentenziò. Negativo. Inserire la carta di credito nella fessura, prego. Così inseri la carta di nuovo, pagai di nuovo e la colonnina emise un lunghissimo scontrino. Di nuovo. Sig! Poi saltammo sul tandem. Dopo qualche pedalata, ero sempre più stanco, sfinito, spolpettizzato. Al semaforo mi voltai verso Ficcaraso e lo vidi spaparanzato con le zampe sollevate dai pedali che leggeva il giornale. Squi! Perché non mi aiuti a pedalare? E lui? Per mille bananille, Geronimino, perché fai il rugnino? E perché ti lamenti? Ti fa bene un po' di allenamento? Vedrai che mi ringrazierai. Questa volta stavo per dirgliene quattro, ma il semaforo divenne verde e così ripresi a pedalare. Quando inchiodai davanti al museo, mi spalmai lungo disteso sulla bicicletta. Sfinito! Sussurrai con l'ultimo filo di voce che mi era rimasto. Lasciami qui, Ficcaraso. Tu vai! Io non ce la faccio più! Ma non c'era il tempo di riposare. Grunzio De Pintor, il direttore del museo, ci stava aspettando impaziente. Eccovi finalmente, seguitemi! Trovai comunque la forza di chiedere, scusi, ma non c'era nessuno! Puff! A guardia dell'uovo! Lui, senza fermarsi, sospirò. Certo che c'era! Che domande! Ma si è addormentato! Si è svegliato solo quando gli ho strillato nell'orecchio, appena mi sono accorto del furto! Intanto eravamo arrivati, di corsa, nella sala principale. Nell'aria c'era uno strano profumo che mi ricordava qualcosa. Ma cosa? Ma fui subito richiamato dal direttore, che ci fece vedere la teca che fino alla sera prima aspettava il prezioso uovo di Topperchie. Nel vetro era stato intagliato un buco perfettamente ovale. Il vetro era ancora integro, appoggiato a terra. Ficcanaso tirò fuori la sua lente da investigatore e si avvicinò con sguardo concentrato. Poi dichiarò solennemente. Gironimmino, fai una fotina col tuo telefonino! Io mi avvicinai curioso col telefono in mano. Certo! Dove? Che cosa hai trovato? Lui rispose. Niente per ora. Devi farmi una foto mentre indago da mandare a Thea. Così vedrà che investigatore in zampa che sono e si innamorerà di me. Io strillai. Ma insomma, ficcanaso, ti sembra il momento. Dobbiamo trovare qualche indizio, altrimenti... Ma non potei finire la frase perché inciampai e il telefonino mi scappò di mano. Per riprendere il volo mi lanciai in avanti. Finii contro la teca. E mi ritrovai a muso in giù, proprio vicino al suo piedistallo di marmo. Il direttore disse... Questa teca è fatta di un materiale speciale. Infrangibile. Indistruttibile. Indeformabile. Ficcanaso scosse la testa. Eppure il ladro è comunque riuscito a tagliarla. Il direttore annui. Deve aver usato un diamante purissimo. È l'unico oggetto al mondo che può scalfire questo materiale speciale. Ficcanaso annui. Aha! Ecco il primo indizio! Io ancora a terra esclamai. E questo è il secondo! Guardate! I due si voltarono verso di me mentre indicavo un lungo capello biondo che si era impigliato proprio alla base del piedistallo. Me ne ero accorto solo perché cadendo me ne ero ritrovato a pochi centimetri dal muso. Per mille bananille! Bravo Geronimino! Il ladro quindi ha lunghi capelli biondi e ha a disposizione un diamante purissimo. Si può dire che il caso è quasi risolto. Più che altro è un punto da cui partire, lo corressi rialzandomi. Non è facile procurarsi un diamante purissimo. Dovremmo parlare con un esperto. In quel momento il mio cellulare squillo. Ficcanaso si illuminò. E Thea! Parla di me, mi raccomando! Ma era tenebrosa. Così risposi. Ciao tenebrosa! Che cosa c'è? Ciccetto! Ma dove sei finito? Strillo a lei. Non vieni alla partenza della caccia alle uova? Veramente? Sono un po' impegnato ora. Sto cercando un esperto di diamanti purissimi per una certa cosa segreta. Tenebrosa strillò emozionata. Oh ciccetto! Finalmente! Un diamante di fidanzamento. Sei un po' in ritardo. Siamo già fidanzati. Ma va bene lo stesso. Io balbettai. No! Non siamo fidanzati! È per un'altra cosa! Segreta! Come sei timido, ciccetto! Comunque per questa cosa segreta puoi andare alla gioielleria più alla moda della città. Gioiellosi, vistosi e costosi e parlare con Monsieur Ledor. Lui è il migliore. Ah, la montatura dell'anello la vorrei di oro bianco, sai. Risalta meglio alla luce della luna piena e per il diamante. Sceglilo pure grande. Anzi, grandissimo! Anche se è un po' vistoso, va bene lo stesso. A proposito, a quando le nozze? Io strillai. Scusa, tenebrosa, ma ho fretta! Ne riparliamo un'altra volta, va bene? Mi voltai verso Ficcanasso, ma il mio cellulare squillò di nuovo. Teronimastro, dove sei finito? Non farmi scherzi! Vieni qui subitissimo! Ficcanasso esclamò. Se è Thea, dille che sei con me! Io esclamai esasperato. No, non è Thea! È un messaggio di trappola! Faccio un salto da lui! Ci vediamo alla gioielleria! I dieci gradi dell'assaggio. Afferrai di nuovo caschetto e bici e mi misi a pedalare. Ancora, ancora, ancora! Le strade della città ormai erano affollate. C'erano bambini che giocavano con gli aquiloni. Famiglie che passeggiavano gustandosi un buon gelato. Ragazzi che si andavano a iscrivere alla caccia alle uova. Che giornata stratopica! Per un attimo mi dimenticai di tutto quello che dovevo fare. Ma poi il cellulare riprese a squillare una, tre, dieci volte. Squiii! Che cosa stava succedendo? Mi fermai e diedi una sbirciatina allo schermo. Erano messaggi urgenti. Anzi, urgentissimi! Anzi, urgentissimissimi dei miei collaboratori. Fui costretto a rispondere a tutti, ma proprio a tutti. Tutti, tutti, tutti i messaggi. Quando arrivai davanti al grand hotel dove si teneva la gara di pasticceria, mi facevano male le zampe per la bici, le dita per tutti i messaggi scritti e anche la testa perché ero rimasto fermo a scriverli sotto il sole. Squiii! Come avrei fatto ad aiutare Trappola e Ficcanaso nello stesso momento e per di più con il mal di testa? A quel punto decisi che avrei tentato di spiegare a Trappola che avevo un mal di testa tremendo e che proprio non mi sentivo di fargli da assaggiatore. Mi avviai a passo incerto verso le cucine e aprì la bocca per spiegargli la situazione. Ma mio cugino ci ficcò subito dentro una tavoletta di cioccolato. Geronimuccio, assaggia questo cioccolatuccio! È al peperoncino extra forte! Non è il gusto perfetto per il mio uovo di cioccolato? Senza aspettare una risposta, passo subito a un'altra tavoletta. O lo preferisci all'aglio? Oppure alla bava di lumaca? Squiii! Dopo dieci interminabili assaggi, non ne potevo più. Adesso, oltre al mal di testa, avevo anche una nausea tremenda. Perché? Perché? Perché capitano tutti a me? Trappola mi incalzava. Allora, Geronimullo, quale ti è piaciuto di più? Avanti! Dimmelo! 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 Ma io avevo la bocca così impastata di cioccolato, che non riuscivo a spiccicare una parola. Potevo solo borbottare... Così, mio cugino strillò orgoglioso. Ah ah ah! Non dici nulla? Sono tutti così buoni che ti ho lasciato senza parole, vero? Stratopico! Allora userò tutti e dieci gusti di cioccolato! Però... però... ecco, però... Ho finito le mandorle! Io capii che quella era la mia occasione per filarmela e tornare ad aiutare Ficcanaso. Così, tracanai un'intera caraffa di acqua e finalmente riuscì a borbottare. Tranquillo! Tu continua a cucinare! Io corro a comprare le mandorle! E corsi via più veloce che potevo. Un anello di fidanzamento stratopico! Com'era difficile pedalare con tutto quel cioccolato che mi gorgogliava nella pancia! Su e giù, 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 su e giù. Ficcanaso mi aspettava davanti alla gioielleria. Finalmente sei arrivato, Gerodimino! Sei in ritardino, Ino, Ino! Appena entrammo nella gioielleria, fumo accolti da un brillio dorato. ma così dorato che dovete socchiudere gli occhi per non rimanere abbagliato subito una commessa ci consegnò un paio di occhiali da sole prego per proteggervi gli occhi mentre ammirate i nostri preziosissimissimi gioielli poi ci venne incontro monsieur le d'or un roditore elegantissimo bonjour lei è il dottor stilton vero la signorina tenebrosa mi ha già avvisato so esattamente cosa sta cercando io balbettai veramente cioè noi stiamo indagando su un furto per caso recentemente avete venduto un diamante purissimo magari a una signora dai lunghi capelli biondi il roditore scosse la testa no nessuna signora bionda però ieri una signora distinta con i capelli scuri e cortissimi ha chiesto espressamente di poter vedere il diamante più puro che avessimo ficca naso chiese e l'ha comprato no ora ve lo mostro la signorina tenebrosa piacerà è un anello di fidanzamento perfetto io sussurrai grazie ma vorremmo solo dare un'occhiata quando monsieur le d'or aprì la scatolina che conteneva l'anello però divenne più bianco di una mozzarella grido ma questo non è il nostro diamante non brilla non abbaglia non stordisce è una banale copia io e ficca naso ci scambiamo uno sguardo di intesa quella cliente dai capelli corti deve averlo scambiato quando l'è stato mostrato e poi forse l'ha utilizzato per rubare l'uovo di topperger per tagliare il vetro che lo proteggeva ficca naso si rivolse a monsieur le d'or non si ricorda altro di quella roditrice il gioielliere si grattò i baffi la signora mi ha chiesto se nelle vicinanze ci fosse un erboristeria l'ho mandata al supermercato bio che c'è qui vicino dove hanno anche un reparto erboristeria poi mormorò sognante che profumo aveva quella cliente io sobalzai profumo lui sospirò un raffinatissimo profumo di scamorsa vanigliata ma ficca naso mi stava già trascinando via non bambinare perdere tempo gerodimo andiamo al super bio una nuvola di profumo alla scamorza il supermercato bio era in fondo alla via e ci arrivammo sempre di corsa a un tratto dovetti fermarmi per rispondere ai messaggi dei collaboratori dell'eco del roditore in fondo avevo anche un giornale da dirigere io ripresi a camminare sovra pensiero e non mi accorsi che la porta del negozio era chiusa così ci andai a sbattere contro io crollai col sottocoda a terra totalmente stordito era una porta di quercia massiccia ficca naso ridacchiò geronimino sei il solito distrattino hai preso una bella bottina sul cragnettino eh chissà che bel bernuccolino sig perché 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 capitano tutti a me per fortuna nel supermercato non c'erano altri clienti così ne approfittamo per fare qualche domanda al commesso io chiesi ieri sera è passata una signora elegante dai capelli scuri cortissimi il commesso scosse la testa no allora ficca naso tentò e una roditrice dai lunghi capelli biondi invece? il commesso borbottò neanche io e ficca naso avevamo il morale a terra sembrava che fossimo a un punto morto ficca naso strellò insomma non è successo niente di strano niente 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 il commesso ci pensò un po' su e poi esclamò ma l'unica cosa strana è che ieri sera è venuto un cliente molto elegante con un doppio petto color grigio topo e una cartella d'affari ed era avvolto in una nuvola di profumo di scamorza vanigliata io esclamai interessato profumo? di scamorza vanigliata? ficca naso strellò wow forse ci siamo che cosa voleva quel furbettino? il commesso spiegò mi ha chiesto quali tisane servivano per curare l'insonnia e poi le ha comprate tutte strano io mi illuminai forse cercava qualcosa per far addormentare la guardia del museo ficca naso a noi già 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 andiamo io mi ricordai della promessa fatta trappola Bunset prima devo comprare delle mandorle per mio cugino per fortuna in quel negozio c'era un banco di frutta secca così comprai un chilo di mandorle e volai via alla ricerca di una bici sono o non sono trappola stilton 20 minuti e migliaia di pedalate dopo ero di nuovo nelle cucine del grand hotel di topazia a tu per tu con trappola insomma cuginuzzo dov'eri finito io sospirai scusa ecco ti ho portato le mandorle ora devo scappar ma mio cugino fu più veloce della luce e mi avvolse in un grembiolone poche storie adesso ti dai da fare anche tu abbiamo un uovo di cioccolato da preparare ma non erano finiti gli assaggi certo infatti adesso mi serve un assistente non vorrai tirarti indietro vero stavo per protestare ma trappola fu rapidissimo e mi calcò sulla testa un cappello da chef ma era troppo grande e mi copriva gli occhi non ci vedevo una crosta poi mi piazzò tra le zappe un libro di cucina super mega gigante tutto sulle uova e anche di più strillando dai 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 che dobbiamo preparare un uovo di cioccolato da primo premio squid il libro era così pesante che mi sfuggì e mi piombò sulla zampa aio che male quando lo raccolsi il librone si aprì e io sbarrai gli occhi trappola questo libro è pieno di ricette sulle uova ma non di cioccolato ci sono ricette di uova di gallina di quaglia di oca mio cugino sbianco cosa 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 e adesso cosa facciamo cuginetto io avevo fretta di tornare da ficcanaso che aspettava il mio aiuto ma anche trappola aveva bisogno di me che cosa dovevo fare così proposi perché non chiamiamo un esperto pasticcere per farci consigliare ma mio cugino si offese un esperto solo o non sono trappola stilton tengo o no una rubrica di cucina sull'ecco del roditore sono o non sono un cuoco coi baffi ce la caveremo benissimo da soli io sospirai perché 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 capitano tutte a me così ci mettemmo al lavoro a caso trappola non aveva idea di come lavorare il cioccolato e nemmeno io squid non è per niente facile no 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 così facemmo tanti tentativi il primo uovo pendeva a sinistra il secondo pendeva a destra il terzo era afflosciato sopra come un soufflé al formaggio mal riuscito il quarto era afflosciato sotto come uno stracchino andato a male il quinto era venuto a chiazze come se avesse il morbillo il sesto era a buchi come un groviera finalmente il settimo era accettabile insomma così così ma noi eravamo sporchi di cioccolato dalla cima delle orecchie alla punta della coda alla fine creammo un enorme uovo di cioccolato beh non era proprio perfetto a dire la verità ma trappola dichiarò che capolavoro modestamente ci so fare io poi avvolse l'uovo in una carta dorata fece un fioccone e continuò ecco fatto portalo tu dai giudici in piazza così io posso schiacciare un sonnellino e rosicchiare un bel po di formaggio e me lo merito con tutta la fatica che ho fatto io sospirai anch'io avrei voluto riposarmi e rosicchiare formaggio se volevo invece sollevai l'uovo e corsi fuori per caricarlo sulla bicicletta dovevo correre al museo la misteriosa ragazza dai capelli rossi alla stazione del bike sharing però mi aspettava una brutta sorpresa l'uovo non entrava nel cestino della bici e adesso mi serviva un rimorchio la vocetta metallica della colonnina annunciò per il rimorchio inserire la carta di credito nella fessura prego io sospirai che giornata tremenda ma che altro potevo fare così inserei la carta per la terza volta pagai per la terza volta e la colonnina emise uno scontrino per la terza volta sig 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 agganciai il rimorchio alla bici e caricai l'uovo poi ricominciai a pedalare con la lingua fuori per fiondarmi al museo perché 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 capitano tutti a me ficcanaso mi aspettava ancora sulla strada insieme alla guardia stavano scrutando la zona alla ricerca di qualcosa o qualcuno ficcanaso mi spiegò tutto quello che la guardia si ricorda è che appena prima di addormentarsi aveva bevuto un frullatone al taleggio che le aveva offerto la ragazza con i capelli rossi di un chiosco ambulante qui davanti ora quella ragazza se n'è andata via ma ha lasciato dietro di sé un profumo di scamorza vanigliata io ricapitolai la teca è stata aperta da una ladra bionda con un anello di diamanti l'anello è stato rubato da una roditrice dai capelli corti e scuri la guardia è stata addormentata dal frullato che le ha dato una ragazza con i capelli rossi tutte e tre le roditrici avevano un profumo di scamorza vanigliata ficcanaso strillo e non dimenticare che quel profumo ce l'aveva anche il roditore con il doppio petto scuro che ha comprato le tisane al super bio poi corse via devo fare un saltino in un posticino e poi ci vediamo nel mio ufficettino io lo guardai sorpreso e dove devi andare di così importante proprio adesso lui tiro fuori da dietro la schiena un enorme mazzo di rose gialle ho preso un regalino per tea e devo portarglielo con questi bellissimi fiorellini sono sicuro che mi noterà sono innamoratino di tea lo sai vero dai che se la sposo diventiamo cognatini squid con tutto quello che stava succedendo lui pensava a portare i fiori a mia sorella l'amore l'ische di pesce e uova marce fortunatamente la strada verso l'ufficio di ficcanaso era in discesa per una volta potevo prendermela comoda mano a mano che mi avvicinavo al porto le strade si facevano sempre più deserte probabilmente ormai erano tutti in centro per l'inaugurazione della mostra delle uova per mille mozzarella senza l'uovo di topergé sarebbe stata un disastro dovevamo ritrovarlo in tempo ma come ero perso nei miei pensieri e non mi accorsi che la bici prendeva velocità più velocità troppa velocità provai a frenare ma purtroppo i freni non funzionavano la discesa si faceva sempre più ripida e la bici andava sempre più veloce il rimorchio con l'uovo sbatacchiava di qua e di là mi sarei spiaccicato come frittata di topo insieme all'uovo di cioccolato di trappola andai a finire dritto dritto dentro un cassonetto dell'immondizia che puzza ero circondato da bucce di banana e lische di pesce e uova marce quando usci dal cassonetto però senti un meraviglioso profumo di scamorza vanigliata era lo stesso profumo che utilizzavano tutti i personaggi coinvolti nel furto dell'uovo di topergé presi il cellulare per avvertire ficcanaso ma la batteria era scarica mi rimaneva solo una cosa da fare seguire la scia del profumo poiché la bici era ormai sfasciata mi caricai l'uovo sulle spalle e quatto come un ratto mi incamminai verso il porto in vicoli sempre più stretti e bui finché sbucai sul mondo davanti a me c'era un grande container il profumo veniva proprio da lì mi feci coraggio e mi affacciai all'interno quello che vidi mi lasciò a bocca aperta dentro non c'era nessunissima banda di ladri dentro c'era qualcuno che riconobbi al volo quella era ombra la ladra più astuta dell'isola dei top squit dovevo fare qualcosa ma cosa poi all'improvviso il fischio di una nave in partenza mi fece sobbalzare e sbatté il cranio contro lo spigolo della parete di metallo ombra si voltò sorpresa stilton geronimo stilton tu qui squit io mi sei tutto ammaccato arrenditi ombra ormai ti ho scoperta lei scoppiò in una gelida risata non appena caricheranno il container sulla nave io sarò al sicuro diretta verso i mari del sud e la festa di primavera sarà rovinata io le chiesi ma 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 perché vuoi rovinare la festa lei mi rispose perfida per una volta una sola volta avevo sperato che qualcuno regalasse anche a me un uovo di cioccolato ma non è successo e non succederà mai nessuno pensa mai a me così ho deciso di prendermi da sola un uovo ancora più prezioso l'uovo di toperger io ci pensai un attimo sai non sempre gli altri capiscono di che cosa abbiamo bisogno a volte bisognerebbe parlarne e spiegare se tu mi avessi detto che desideravi tanto un uovo di cioccolato tu l'avrei regalato io lei scosse la testa non ti credo stilton nessuno è mai gentile con me e se non posso godermi la festa di primavera io neanche gli altri se la godranno a quel punto io la guardai dritta negli occhi e le porsi l'uovo di cioccolato di trappola con un sorriso ecco questo è per te non sarà l'uovo di cioccolato più bello e più buono del mondo ma io e trappola l'abbiamo fatto insieme con tanto impegno ombra mi guardò sospettosa e perché lo vuoi dare a me io le sorrisi perché penso che ognuno meriti una seconda occasione e un uovo di cioccolato durante la festa di primavera perché non vieni al museo con me potresti restituire tu stessa l'uovo di toperger ombra afferrò l'uovo di cioccolato e stava per dire qualcosa quando tutto intorno a noi cominciò a tremare e poi a ondeggiare e poi a solire strillai qui la cru sta caricando il container sulla nave poi cominciai a scivolare a scivolare a scivolare strillai terrorizzato senza rendermene conto stavo scivolando giù 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 verso la porta aperta del container che ormai era sollevato da terra mi sarei spiaccicato come frittata di topo ma all'ultimo la zampa di ombra mi afferrò e mi trascinò al sicuro nel container squid ero in salvo ma svenni comunque per la fifa quando riapri gli occhi mi ritrovai al sicuro sul molo ma ombra dov'era guardai verso il mare e per un attimo vidi i suoi capelli biondi ondeggiare al vento sul ponte della nave che stava lasciando il porto di topazia ombra era riuscita a scappare anche questa volta fu allora proprio allora che notai davanti a me l'uovo di topazia ombra aveva deciso di restituirlo forse in un angolino del suo cuore l'uovo di cioccolato l'aveva resa felice ho perso l'uovo di cioccolato afferrai il preziosissimo uovo di topazia recuperai una nuova bici alla stazione del bike sharing e mi diressi verso il museo più veloce che potevo ficcanaso mi corse incontro ma insomma gironimino sono ore che ti chiamo dove eri finito babbeino ma non appena vide che cosa tenevo tra le zampe esclamò per mille bananille hai trovato l'uovo di topazia sei stato proprio bravino entrammo nella sala giusto in tempo il direttore mise l'uovo di topazia di nuovo al suo posto nella nuova tecca e un attimo dopo le porte si aprirono al pubblico c'erano tutti e quando dico tutti intendo proprio tutti gli abitanti di topazia tutti erano felici di poter ammirare quell'opera d'arte tutti tranne me io ero preoccupato e canaso si avvicinò che cosa ti succede gironimino non sei contento che abbiamo risolto questo misterino io sospirai sì certo ma non ho più l'uovo di cioccolato di trappola ho dovuto regalarlo a ombra ormai manca poco alla premiazione della gara di pasticceria e non c'è più niente da fare chissà come ci rimarrà male trappola poi senti qualcuno che mi tirava per la giacca mi girai e vidi benjamin il mio nipotino che era venuto a visitare il museo con la sua classe zio ho sentito quello che hai detto non preoccuparti c'è ancora tempo grazie benjamin ma devi sapere che io e trappola ci abbiamo messo ore a preparare quell'uovo di cioccolato lui mi sorrise perché non chiami a raccolta tutti gli amici e proviamo a fare insieme un altro uovo io sorrisi buona idea ora chiamo trappola gli spiego tutto poi sia lippa e non ho torquato e topella e gli altri amici del giornale e tea e ficcanaso strillò emozionato ti penso io chiamare tea io mi misi a ridere d'accordo appuntamento in cucina a casa mia ho portato rinforzi nipote uno dopo l'altro tutti i miei amici e parenti arrivarono a casa mia il primo fu trappola che però era dubbioso non credo che nessuno riuscirà a fare un uovo migliore del mio poi arrivarono zia lippa nonno torquato iena tea e ficcanaso mio nonno tuono ho portato rinforzi nipote siamo in tanti vedrai ce la faremo topella entrò col suo tablet in mano seguita da tutti i collaboratori dell'eco del roditore ciascuno dei miei amici aveva portato qualcosa per contribuire alla produzione dell'uovo pentole stampi spatole zucchero spezie rarissime canditi della migliore qualità ma anche miele pasta di mandorle decorazioni glassate che amici stratopici che famiglia meravigliosa che topo fortunato sono quando ci fumo tutti benjamin esclamò forza zio dici che cosa dobbiamo fare tutti rimasero in silenzio in attesa di mie istruzioni così mi schiarii la gola amici grazie di essere qui io e trappola vi siamo molto grati per il vostro aiuto ma ora basta chiacchiere conoscete tutti il mio amico cioco cocco cacao vero tutti annuirono bene sarà lui a guidarci nella creazione di uno stratopico uovo di cioccolato alla notizia tutti applaudirono entusiasti tranne trappola che borbottò sono più bravo io allora ciocco cocco prese la parola molto bene signori roditori e signore roditrici insieme creeremo a tempo di record l'uovo di cioccolato migliore della città o non mi chiamo più ciocococco cacao siete pronti tutti rispondiamo in coro sì allora diamoci da fare in poco tempo con la guida di ciocococco creiamo tutti insieme un grandissimo coloratissimo golosissimo uovo di cioccolato trappola borbottò non male non male grazie alla mia supervisione siete riusciti a fare un buon lavoro io esclamai commosso questo uovo è stratopico e visto che l'abbiamo preparato tutti insieme lo chiameremo l'uovo dell'amicizia dolce come l'amicizia prendemmo l'uovo lo caricamo su una carriola e arrivamo in piazza pietra che canta giusto un attimo prima che i giudici concludessero gli assaggi ce l'avevamo fatta per un baffo il nostro uovo fece subito un figurone perché era davvero enorme e decorato con fantasia e mille colori e sopra c'era scritto l'uovo dell'amicizia con lo zucchero glassato poi i giudici lo assaggiarono annotarono qualcosa sui loro tacquini e si ritirarono per decidere senza dire nulla noi eravamo tutti sotto il palco emozionati e ci tenevamo per la zampa chissà 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 se avremmo vinto dopo qualche minuto che sembrò interminabile uno dei giudici tornò sul palco e dichiarò con voce solenne il vincitore della gara di pasticceria della festa di primavera è l'uovo dell'amicizia di trappola stilton e amici tutto il pubblico applaudì felice e trappola venne sommerso di abbracci pacche sulle spanne e congratulazioni lui ripeteva grazie modestamente me ne intendo di cioccolato ma devo ammettere che anche gli altri cioè i miei amici e quelli di geronimo sono stati bravi era stata una giornata lunga troppo lunga anzi lunghissima però ne era valsa la pena perché la conclusione era stata stratopica una vittoria dell'amicizia dal gusto dolce anzi dolcissimo di cioccolato congr caliber di cioccolato